La cabina si illuminerà al buio per indicarvi l'uscita più vicina in caso di emergenza. Ci sono 4 porte principali, 2 nella parte anteriore della cabina, una a sinistra ed una a destra. Ci sono 4 uscite al centro della cabina in corrispondenza delle ali, 2 a sinistra e 2 a destra. Vi preghiamo di individuare l'uscita più vicina che potrebbe essere anche dietro di voi. Per allacciare la cintura di sicurezza, inserite la parte metallica nella fibbia e tirate le estremità per regolarla. Per slacciarla, sollevate la parte superiore della fibbia. Nel caso le maschere individuali per l'ossigeno cadano dagli appositi scomparti collagati sopra di voi, tirate con forza la maschera per avviare il flusso d'ossigeno. Collocatela sul naso e sulla bocca e respirate normalmente. Non preoccupatevi se il sacchetto non si gonfia, l'ossigeno fuoriesce comunque. Regolate la maschera tirando in estremità dell'elastico. Gli adulti che viaggiano con bambini sono pregati di indossare prima la propria maschera. Il giubotto di salvataggio è situato in una tasca sotto il vostro sedile o nel pannello sopra di voi. Per caso improbabile di ammaraggio, estraete il giubotto e indossatelo. Portate la cintura attorno alla vita, allacciatela e regolatela come indicato dagli assistenti di volo. Per gonfiare il giubotto, tirate con forza la levetta rossa. C'è un tubicino rosso per gonfiare o sgonfiare il giubotto e la luce per attirare l'attenzione. Non gonfiate il giubotto all'interno della cabina, poiché potrebbe ostacolare la vostra uscita. Troverete otterrò informazioni sulle schede di sicurezza disponibili nell'area in cui siete seduti. Vi invitiamo a leggerla attentamente prima del decollo. Vi preghiamo di assicurarvi che la vostra cintura di sicurezza sia lanciata. Il tavolino riposto, il progiabraccio abbassato e gli oscuranti dei finestri aperti. Vi raccomandiamo di tenere le cinture lanciate durante tutto il volo. Nel pannello superiore troverete un pulsante di chiamata, una luce di lettura ed un lavoratore dell'aria. Dispositivi elettronici quali tablet e telefoni cellulari in modalità aerea possono essere utilizzati durante il volo. Selezionate adesso la modalità aerea. Computer portatili devono essere spenti e collocati sotto il sedile davanti a voi con gli appositi vani durante le fasi di rollaggio, decollo e atterraggio. È severamente evitato fumare. Vi ringraziamo per la vostra attenzione. Grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.